Allora, siamo qua con gli amici di EFI Gear francesi, in particolare con Philippe che mi ha spiegato tutto. Questo brand è particolarmente allergico alle cassette e ai deragliatori posteriori perché sulle loro bici non ne trovate, è tutto incorporato al movimento centrale. Questa è una e-bike, 630 wattora, motore con pignoni incorporati, non EFI Gear in questo caso, ma Valleo. È un patento EFI Gear, ma Valleo lo ha fatto. Ok, il motore è Valleo, però il patentino è di EFI Gear. Troviamo... How many pignons? 7. 7 pignoni integrati in questa particolare. Abbiamo un pivot alto per tenere in tensione la catena, un unico pignone posteriore e questo è il loro timbro di fabbrica. Poi andiamo sulle analogiche. Questo è un mostro da DH, 7 pignoni nel loro sistema che si chiama... What's the name of the system here? What's the name of the system here? F-Gear gearbox. F-Gear 9 box, 9 pignoni che troviamo sia sul mostro da DH che su quello da enduro. Sistema a cinghia, unico pignone posteriore. Qua... Gli deragliatori posteriori. Neanche l'anima. È la stessa. La troviamo qua. Stesso sistema. Il nome di queste biciclette è Anakin. Un bel nome. Anakin 2. Sia per l'enduro sia che per DH. Complimenti. Bei prodotti. Innovativi. Mi piace. Grazie. 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 Allora, siamo da Valeo, un brand francese con Quenti ed abbiamo adocchiato il nuovo sistema. Loro è un motore per i bike che integra sette pignoni. Quindi questo, a mio parere, sarà il futuro. La trasmissione integrata al motore forma un unico nucleo. Evitiamo di avere la cassetta dietro, evitiamo di avere deragliatori posteriori. Tutto è semplificato in un'unica unità. in un'unica unità di potenza motore. Il power. Il power. How many power? 130, you said. Newton meter. 130 newton metro di potenza motore. Allora, cercano di adattare il sistema a entrambi i mercati, sia quello europeo che americano. Quello europeo è limitato a 250 watt. The American one is limited to 750 watt. This is still a prototype or is a reality? Because I saw that last year. Allora, l'innovazione tecnologica degli amici transalpini si spinge veramente tanto qui perché oltre ad avere un frame completamente in titanio, abbiamo una sospensione centrale montata in maniera mai vista e una scatola del cambio integrata al movimento centrale. Quindi un singolo pignone al posteriore e la scatola del cambio è completamente integrata. Also with this unit you will start the production in settembre. Ok, l'inizio della produzione di questa unità con pignone integrato avrà inizio a settembre. Thank you very much, Quentin. Thank you for your time. Thank you.